Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla pagina della cronaca nera, vi riferiamo di una turpevicenda scoperta dalla polizia di Gela, un tunisino amminacciato, violentato e abusato. La figlia di prime nozze della moglie è stato arrestato e rinchiuso in carcere. Per diversi anni ha abusato, minacciato e violentato la figlia, trattandola alla stregua di un oggetto sul quale riversava tutte le proprie frustrazioni, non mancando di privare la giovane donna della libertà e dell'autonomia di pensiero ed azione che ciascun essere umano ha diritto di vantare. Protagonista della squallida vicenda scoperta dalla polizia di Gela e dalla sezione di polizia giudiziaria, diretta dal procuratore capo Lucia Lotti, è un cittadino tunisino. L'uomo abitante a Gela, già da diversi anni sposato con una donna tunisina e padre di tre figlie, aveva per anni reso la figliastra vittima di un disegno criminoso fatto di molteplici abusi, minacce e violenze. Le indagini serrate condotte dagli inquirenti hanno permesso di tracciare precisi profili di pericolosità dell'indegato, il quale, nel disprezzo delle leggi ed esercitando prepotenza verso gli altri familiari, aveva nel corso del tempo sviluppato un vero e proprio stile di vita incentrato sulle costanti vessazioni e prepotenze verso le donne della propria famiglia. La vittima per scelta, come dicevamo, era in quasi ogni occasione la figlia di prime nozze della moglie. Terrorizzate dall'uomo, le figlie e la moglie, malgrado le molteplici occasioni di ricovero presso il locale ospedale, non hanno mancato di ridimensionare e affievolire la gravità dei fatti emersi nel corso del tempo per paura di ritorsioni e soprusi. Giunte all'esasperazione, le figlie del tunisino, stanche di vivere una situazione di raccapricciante disagio familiare e di assistere alle morbose attenzioni sessuali che il loro padre continuava nel tempo a manifestare alla figliastra, si sono rivolte agli investigatori. E' emerso un quadro drammatico. Dopo l'iniziale silenzio e la ritrosia a parlare, grazie al rapporto di empatia instaurato con gli operatori della polizia, preposti al difficilissimo caso, le vittime hanno deciso di collaborare pienamente, svelando i dettagli della turpe vicenda. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Gela, su richiesta del sostituto procuratore Lara Seccaccini, in attesa della convalida del provvedimento da parte del GIP. E adesso occupiamoci dell'inaugurazione della nuova sede della associazione nazionale Carabinieri di Gela, intitolata al maresciallo ordinario, medaglia d'oro al valore militare Sebastiano Di Mè. Era presente oggi tra gli altri il comandante interregionale. Noi l'abbiamo sentito. L'impegno dei Carabinieri a Gela sul territorio è importante e l'inaugurazione quest'oggi di una associazione nazionale a riconducibili proprio ai Carabinieri nella testimonianza più eloquenta. Sì, in effetti è così. L'impegno qui è ovviamente importante per cercare di assicurare l'ordine della sicurezza pubblica e la vicinanza alla popolazione, come è d'altronde in ottemperanza i nostri compiti istituzionali e secondo le nostre tradizioni. L'inaugurazione di una nuova sede e la sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri è sicuramente un evento importante e molto significativo perché evidenzia come certi valori che ci sono propri si mantengano non solo quando siamo in servizio ma anche quando il servizio attiva cessa è proprio perché certi valori rimangono immutati in chiunque abbia vestito il nostro uniforme di alamari e quindi questa sezione sarà certamente un punto di riferimento ulteriore per la vicinanza alla popolazione e di riferimento per le istituzioni. E quale sarà il compito? L'Associazione Nazionale Carabinieri come suo intendimento è quello di mantenere la solidarietà e l'assistenza tra i carabinieri in congetto ma mantenere anche il contatto con i carabinieri in servizio e con la popolazione. Recentemente poi il suo impegno si è stesso anche a sociale con varie forme di volontariato e quindi sicuramente come dicevo sarà un punto importante di vicinanza alla popolazione e di aiuto. E la popolazione però già rese chiede più presenza delle forze dell'ordine in città? La presenza delle forze dell'ordine è quella che viene stabilita dall'organizzazione sul territorio che fa capo agli organi competenti, alle autorità competenti. come dicevo prima l'impegno è sicuramente forte perché è sicuramente primario garantire l'ordine e la sicurezza pubblica e la vicinanza alla popolazione in tutto quello per cercare di rispondere sempre al meglio e con efficienza alle esigenze di questo. Ultima domanda Si è carabinieri sempre per tutta la vita? Si è carabinieri sempre per tutta la vita, non ci dubbio. La pagina della politica l'impegno che si era assunto con l'elezione della nuova segreteria e della dirigenza politica del Partito Democratico di Gela è stato quello di caratterizzare l'azione politica del primo partito cittadino convinti, come siamo, che il Partito Democratico non può essere la media ponderata degli umori della città quanto piuttosto un riferimento partecipato di elaborazione politica progressista che ha il dovere di interpretare le direttrici dello sviluppo sociale ed economico di Gela nel più ampio contesto regionale e nazionale. Lo scrivono in una nota Peppe Di Cristina, segretario cittadino, Claudia Caizza, presidente, ed Enzo Cirignotta, capogruppo consigliare. Il Partito Democratico di Gela anticipa l'intenzione di condividere con la cittadinanza e con le forze politiche un nuovo documento sulle linee strategiche per una politica di partito sui temi del lavoro e dello sviluppo relativi alla vertenza Gela. Linee strategiche che non vanno confuse con le proposte amministrative che saranno poi una logica conseguenza ma che chiariscono l'idea di città e del lavoro che produce sviluppo a cui richiamarsi nell'azione politica consigliare. Il direttivo cittadino del PD di Gela proporrà nelle prossime settimane una sua visione dei riferimenti strategici per lo sviluppo futuro della città compiendo una operazione di totale trasparenza e caratterizzazione della propria azione politica di cui Gela necessita per fare chiarezza tra politica seria e populismi a buon mercato. Un calvario con le tappe scandite sostanzialmente dalla delusione degli ex lavoratori dell'indotto. La vertenza Gela, che oramai non riguarda più solo chi gravita per un motivo o per un altro con le sorti dello stabilimento Eni ma più in generale con l'intera città, è stata ancora una volta al centro dell'ennesima puntata di Agorà andata in onda ieri sera su Canale 10 con tutte le componenti che interessano questa spinosa vicenda presenti in studio. Chi la vede nerissima, ossia i lavoratori, chi non si arrende e crede che la situazione si possa ancora recuperare, ossia i sindacati, e chi invece pensa che si sia finalmente imboccata la strada giusta per andare a risolvere seriamente qualche criticità e cioè chi attualmente amministra la città. Tre visioni diverse, ma che a modo loro tentano di ottenere gli stessi risultati. Sul banco degli imputati rimane chi governa il vapore Italia e chi invece quello molto più sgangherato che è il vapore Sicilia. Roma e Palermo, Renzi e Crocetta. Sono loro che hanno creato il problema e sono loro che lo devono risolvere, anche perché è in mano loro il potere di legiferare e nel caso specifico affrontare in maniera decisa e positiva la vertenza Gela. Dal Mise di Roma però pare che finalmente comincino ad arrivare segnali positivi e di moderato ottimismo. Lo hanno detto tanto il sindaco Domenico Messinese quanto il suo vice Simone Siciliano, che avendo la delega assessoriale all'industria sta seguendo passo passo questa spinosa vicenda. Lo ha ribadito, in parte, assegnando però agli attori romani e palermitani le loro gravi responsabilità, anche l'ingegner Fabrizio Lishandra, consulente della Presidenza della Regione Siciliana per la stesura del famoso protocollo d'intesa del 6 novembre 2014. Posizione diversa, chiaramente, da parte del sindacato che chiede unità di intenti, almeno a livello territoriale, per una vertenza che è ben lontana dall'essere risolta. Tesi avanzata, con forza, dal segretario provinciale della CGL, Ignazio Giudice, presente in studio in rappresentanza anche delle altre sigle sindacali. E poi la posizione del Consiglio Comunale, ben rappresentato in studio da Salvatore Gallo, che ha confermato che sulla vicenda della vertenza Eni non possono esserci più divisioni politiche e beghe di partito. E poi loro, i lavoratori dell'indotto, quelli che purtroppo adesso sono diventati ex lavoratori dell'indotto. In studio, i tre disoccupati gelesi che hanno consegnato mercoledì, nelle mani di Papa Francesco, una toccante lettera per chiedere aiuto anche a lui, alla massima autorità della Chiesa. Perché laddove non hanno finora ricevuto risposte concrete dalla politica, allora ai disperati ex lavoratori gelesi non è rimasto altro che affidarsi alla fede. In una parabola, persino temporale, che sta riportando Gela indietro di secoli, quasi ad una ancestrale visione della vita che solo nel basso Medioevo esisteva ancora. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora potrà farlo domani sera con la replica integrale che andrà in onda alle ore 21 su Canale 10 oppure attraverso i nostri indirizzi social, il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo, in prima serata, con ospiti ed argomenti che come sempre riguardano Gela e Digelesi. La legge di stabilità per l'anno in corso apre al ricevimento di nuovi finanziamenti da destinare all'edilizia scolastica ed il direttivo di destra in movimento chiede alla giunta comunale gelese di agire per ottenere le somme. Il governo prevede infatti un pacchetto di circa 480 milioni di euro. La richiesta arriva davanti allo stato precario di diversi istituti scolastici della città. Un'opportunità che non può essere sprecata, si legge in una nota, tenuto conto delle condizioni in cui versano le strutture scolastiche cittadine e della necessità di garantire agli studenti e agli operatori la sicurezza e l'idoneità dei luoghi che li ospitano. La domanda può essere presentata entro l'11 marzo prossimo e può essere scaricata dalla sito sbloccabilancio.it. È stato costituito il direttivo di Fratelli d'Italia sezione Giorgio Almirante di Gela, segretario e Gaetano Minardi. Francesco Agati si occuperà dei rapporti con la stampa e la propaganda politica. Orazio Caiola ha dei rapporti con gli enti locali. Tesoliere è stato nominato Giuseppe Danotto. Salvatore Trabbino si dedicherà ai rapporti Interforze. Consigliere è Piero Scuderi. Organizzatori Giovanni Smecca ed Antonello Fiandaca. Responsabile giovanile è Alessia Scicolore. Mentre Letizia Scudera e Giusei Internullo sono responsabili donne. Crisi finanziaria è possibile via d'uscita. Tema importante affrontato oggi a Gela in un periodo assai difficile per i commercianti e gli imprenditori. L'iniziativa si è svolta nei locali della Chisetta San Biagio. Presente Domenico Raneri, revisore legale ed esperto in diritto bancario. Esistono degli strumenti per cercare di aiutare le persone che si trovano oggi ahimè colpiti da una situazione di sovrintebitamento particolarmente rilevante. E quali sono? Per esempio la legge 3 del 2012 sulla composizione della crisi delle famiglie, vari interventi legislativi della riforma della legge fallimentare come la composizione della crisi di imprese, l'articolo 182 bis, l'articolo 67, vari strumenti che devono essere conosciuti e possono essere particolarmente apprezzati da chi vi ricorre. L'avvocato Salvatore Pseila. Abbiamo fatto informazione su quegli strumenti fondamentali indispensabili che possono dare una bellissima mano d'aiuto a chi si trova in una situazione di crisi finanziaria con la propria impresa, la propria azienda perché queste nuove leggi, queste riforme, questi strumenti che sono state inserite nel corpo del diritto fallimentare possono dare una mano d'aiuto agli imprenditori anche agricoli, commerciali, artigiani, professionisti, anche il singolo consumatore. L'iniziativa di oggi porta le firme di Confesercenti, Confcommercio e Casa Artigiani del Golfo. Noi abbiamo messo a disposizione i nostri uffici quindi tutti coloro che hanno bisogno di parlare in privato con i nostri professionisti si possono rivolgere alla Confesercenti che è in via Corso Vittorio Emanuele 45. Confcommercio si farà partecipe con l'associazione di altre associazioni datoriali di accompagnare i nostri iscritti e tutti coloro che ne hanno bisogno all'utilizzo corretto degli strumenti normativi previsti perché spesso per non conoscenza non si sanno che c'è la possibilità di attingere a finanziamenti a sistemi che permettono anche di andare a durire nel tempo i debiti sia con lo Stato che con i fornitori. L'imprenditore che non ce la fa che ha bisogno di ossigeno ci sono dei servizi finanziari messi ad hoc per quanto riguarda il nostro gruppo Artigian Casse credo agevolato per avere un po' di ossigeno. Presente anche l'amministrazione comunale. L'amministrazione di oggi consentirà a molti operatori di accedere a quegli assi di finanziamento della comunità europea che molte volte non vengono utilizzati perché le persone non sanno e non conoscono quindi un'azione del genere nel territorio già è una possibilità di crescita perché consente di attingere a quei finanziamenti che sono vitali per le aziende. È uscita una legge che si chiama legge salvasuicidi proprio sui sovrindebitamenti oggi gli organismi qui presenti ci spiegheranno come attivarla l'intenzione del comune è quello di aprire un tavolo un ufficio dove la gente possa venire spiegare le motivazioni presentare il loro credenziale e capire se è possibile attraverso quella legge provare a salvaguardarle almeno nella tutela al reddito. La sottosezione dell'unitarsi di Gela in occasione delle festività di Pasqua effettua la vendita di uova di cioccolata appuntamento oggi e domani nelle varie piazze e dinanzi alle parrocchie e in edicola il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro a Roma governo ed Eni gettano la maschera e questo è il titolo forte della prima pagina a commento della deludente e missione romana di sindaco e sindacati per la vertenza Gela il servizio è di Filippo Guzzardi sulla stessa vicenda scrive anche Giulio Cordaro nella sua rubrica settimanale politicamente scorretto con ironia affida a Papa Francesco la soluzione della vertenza lavoro in prima pagina anche un richiamo sulla legge di riforma dell'ex provincia il cui nuovo decreto dovrebbe andare all'esame dell'AS dopo l'approvazione della legge di stabilità nello Lombardo intervista il dottore Linciani il medico pediatra esperto in malattie neonatali rilancia il suo progetto di creare a Gela un istituto di ricovero e cura per le malformazioni all'interno del giornale altri articoli e servizi di attualità e cultura nello sport i commenti di Orazio Accomando sui campionati di calcio di eccellenza e di promozione ed in ultima come di consueto la pagina dei piccoli annunci economici ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità rieccoci seconda parte del telegiornale proseguono gli appuntamenti in occasione dell'ottantaduesima stagione concertistica gelese domani alle 19 al Palazzo Pignatelli concerto del trio Echi Armonici con Maria Provenzano Angela D'Amato e Giuseppe Cumbo l'iniziativa lo ricordiamo porta la firma dell'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra Fino al 17 marzo prossimo si svolge a Gela presso i locali della Chiesetta San Biagio e presso la Pinacoteca Palazzo di Città il terzo corso di formazione del progetto Life più Leopoldi dal titolo La sostenibilità nel paesaggio agricolo del Golfo di Gela il corso di 50 ore ha un approccio multidisciplinare e pratico affrontando temi concreti per la gestione progettazione e conduzione degli impianti serricoli e la promozione di un'agricoltura sostenibile interverranno docenti dell'Università degli Studi di Catania e esperti del settore La Fidapa International di Gela promuove il progetto internazionale Dai luce alla pace a cura della past presidente Angela Incardona il progetto viene portato avanti a livello internazionale nei 98 paesi dei 5 continenti dove la Fidapa è presente il progetto si propone di educare le nuove generazioni alla pace alla comunicazione al dialogo interculturale il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e vede coinvolti docenti di lettere ed educazione artistica dovranno essere prodotti un disegno che può essere individuale o collettivo con tecniche diverse tra cui carboncino pennarello matita in basso un pensiero di pace ispirato dal disegno i disegni migliori sei per ogni scuola dovranno pervenire entro il 20 aprile prossimo e verranno valutati da una commissione competente i tre disegni ritenuti più significativi verranno premiati nella giornata conclusiva che si terrà nell'ultima decade di maggio prossimo sono previsti premi in denaro è stato prorogato al 15 aprile prossimo al fine di poter usufruire della fioritura primaverile della flora dunale il termine di consegna dei lavori relativi al concorso fotografico le dune gelesi promosso dalla Soroptimist di Gela è rivolto agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze e le peculiarità del paesaggio gelese attraverso le immagini le foto inedite devono essere stampate in formato 18x24 e salvate su supporto cd in formato jpeg con dimensioni minime di 3 megabyte e massime di 10 megabyte e ora parliamo di calcio sfida difficile per il Gela domani la squadra bianca azzurra nel campionato di eccellenza sarà di scena a Mazzara dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Mussomeli Nassi e compagni cercano l'acuto anche fuori dalle mura amiche nelle ultime tre trasferte lo ricordiamo sono arrivati altrettanti pareggi si accusano numerose defezioni in seno al club bianca azzurro oggi durante la rifinatura si è infortunato Alma ma sentiamo il tecnico Totò Brucculeri Totò Brucculeri partita difficile sulla carta perché si gioca a Mazzara su un campo ostico per lei intanto è un ritorno nella sua città natale con quale spirito domani il Gela affronterà questa vera e propria battaglia un ritorno per vedere i miei figli soprattutto per altre situazioni a livello emotivo e emozionale sicuramente non non proverò niente perché penso di ormai allenare una squadra fa parte del passato io vivo in un presente importante e chiaramente non mi devo emozionare per niente e con quel spirito la sua squadra domani affronterà come dicevo questa vera e propria battaglia un spirito gagliardo un spirito importante un spirito di una squadra che ha ambizione di poter di vincere il campionato ormai è inutile che ci nascondiamo dietro un dito cioè ci siamo là ce la giochiamo ma è una lotta fra Gela da Tiro Noir e San Cataldese oppure dobbiamo considerare anche il Castelbuono il Castelbuono è un'insidia che sta dietro insomma guarda dalla finestra i nostri passi falsi per cui in calza in classifica è un avversario di tutto rispetto deve venire a giocare qua a Gela chiede conseguenze ha fermato pure la San Cataldese in casa una squadra che merda grande rispetto però noi dobbiamo guardare la nostra strada non possiamo guardare la strada degli altri nelle ultime tre trasferte tre pareggi adesso è arrivato il momento di vincere sì tre pareggi che sono tre punti in classifica per cui siamo in testa la classifica significa che tre pareggi hanno influito per rimanere in testa la classifica ormai parlare dei pareggi eccetera eccetera in questo momento non bisogna diciamo così parlare di numeri bisogna solo e esclusivamente domani interpretare una gara importante è una gara è difficile lo sappiamo però rimane la consapevolezza che noi ce la giochiamo si presentano defezioni nella sua squadra? sì qualche defezione c'è insomma la squadrafica di tre piedi in Floridia non è aggregabile Alma è come un grande punto interrogativo buona fine con un problema a ginocchio per cui l'infermeria sta lavorando tanto se fosse schedina due fisso? a partire l'altro riprendere e nel campionato di promozione gioca in casa l'Atletico Gela domani la formazione di Peppe Misiti riceverà la visita del Castel Termini dopo una settimana turbolenta in casa Gela Rossa a seguito della sconfitta rimediata con l'ultima in classifica la polisportiva Alma e la sospensione di alcuni giocatori decisa dalla dirigenza l'obiettivo domani è ricominciare a vincere per non perdere contatto dalla zona playoff trasferta invece per il Macchitella i Biancorossi saranno di scena a Santa Croce e Camerina per il team presieduto da Francesco Greco domenica scorsa è arrivato un pareggio dopo quattro sconfitte di fila l'istituto comprensivo Enrico Mattei di Gela ha intrapreso un progetto per l'avvio dei propri alunni all'Atletica Leggera affiliando alla Federazione Italiana Atletica Leggera il proprio centro sportivo Mattei Sport per la partecipazione ai campionati federali martedì primo marzo prossimo gli alunni parteciperanno ai campionati regionali di corsa campestre dei giochi della gioventù l'istituto parteciperà con due squadre cadette e cadetti nati nel 2002 e nel 2003 alla loro prima importante esperienza sportiva la squadra femminile cadette è formata da Leandra Pacia grazie a Scilia Francesca Pirillo e Giusefin Scilio la squadra maschile cadetti è composta da Giovanni Vallone Orazio Catalano Rosario Seminara Salvatore Licata e Orazio Cardizione le due squadre saranno accompagnate dal docente tecnico di Atletica Leggera e coordinatore del progetto Peppe Divara e adesso apriamo la pagina dello spettacolo sono due film in programmazione al Cine Teatro Antitolo di Machitella Gela alle 17.30 Gioi e alle 19.30 e alle 21.30 il labirinto del silenzio oggi alle 21.15 e domani alle 17.15 invece al Teatro Comunale Eschilo Flavio Brezzaventre Guia Ielo ed Agostino Zumbo porteranno in scena la bismetica domata per informazioni ci sono due numeri telefonici 093 911892 e 345 5880 580 con la pagina dedicata allo spettacolo noi chiudiamo l'informazione di oggi grazie per averci seguito vi auguriamo un buon weekend appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti